buonasera a tutti io sono luca fiore questo è oggi in borsa l'esclusivo format di money.it sull'andamento dei mercati finanziari mercati finanziari che oggi hanno chiuso la seduta in deciso territorio negativo come possiamo vedere in special modo in europa dove l'euro stocks 50 ha terminato in rosso di due punti percentuali rosso di oltre due punti percentuali per il nostro fuzzimib che si è fermato a 24 mila 0 88,65 punti preda per lo più delle delle vendite che hanno colpito il comparto bancario per quanto riguarda temi più generali possiamo dire che come d'attese il lema l'autorità europea per il farmaco ha ribadito l'efficacia di del bacino di johnson and johnson e anche se ci sono sono ci sono verificati alcuni casi di trombosi alcuni rari casi di trombosi per quanto riguarda le tematiche più economiche e sul fuzzimib troviamo ben pochi segni più 3 per la precisione quelli messi a segno da diazori in amplifone ricordati salite rispettivamente lo 0 97 0 88 dello 0 13 per cento tutto il resto del listino principale quota in rosso le performance peggiori sono appannaggio dei titoli del comparto bancario banco bpm ha terminato con un meno 5 61 per cento di per banca con un meno 5 38 per cento unicredit con un meno 5 16 per cento non a caso si tratta dei tre istituti che nelle ultime settimane erano quelli che avranno beneficiato di più delle possibilità di un nuovo di nuove operazioni straordinarie per quanto riguarda b per banca oggi ha annunciato di aver concluso due operazioni di cessioni di portafogli e di crediti di difficile riscossione per un valore lordo di libro di circa 370 milioni di euro seduta decisamente negativa per leonardo meno 4 e 66 per cento del settimato microelectronics meno 3 e 81 per cento tra sul completo spiccano si fa per dire le performance vita età mette più 2 24 per cento di best net più 2 e 12 per cento tra le performance peggiori ritroviamo il banco bpm ritroviamo tecnogin meno 6 e 62 per cento e anche la coperta formata da b per e da unicredit per quanto riguarda l'andamento dei titoli di stato lo spread tra btp e bund è stato di quasi due punti per cento alle 104 punti base e secondo le indiscrezioni nel secondo giorno di offerta agli ordini per i bt più futuri sono attestati a 700 milioni di euro quindi il totale sale sopra cosa 3 miliardi di euro da money.it per oggi è tutto l'appuntamento è a domani buona serata